Ciao! Come state? Ah, oggi mi vedete in questa veste per darvi appuntamento a martedì perché finalmente dopo la pandemia, che però è durata di più, sono riuscita a tornare a fare le recensioni per Glamissima e in questo caso ho iniziato a recensire queste calze Wolf, ve lo dico perché so che voi siete amanti anche di Glamissima, se non l'avete ancora fatto e non l'avete ancora conosciuto, beh, andate a cercare il canale. Nel frattempo dicevo appunto, io sto recensionando queste calze, ma volevo darvi appuntamento a martedì prossimo, come sempre alle 9 e 15 per la nostra diretta. Beh, che dire, che dall'abbinamento potrei dire che sono pronta per la fatidica frase donne e motori, si dice gioie e dolori, ho già anche il giubbotto di pelle, potrei prendere una moto. Sicuramente la moto andrò a vederla e non solo la moto, la settimana successiva perché inizia lei, ma quindi possiamo così martedì, che dire, partire e raccontare quella che è la dicitura donne e motori gioie e dolori e vedere effettivamente che cosa ne pensate dei motori, magari anche in musica, perché magari poi riusciamo a scoprire che c'è qualche album che, non lo so, come copertino, comunque all'interno parla sicuramente dei motori, va bene? Quindi vi do appuntamento a martedì, come sempre, alle 9 e 15 per la nostra diretta YouTube e mi raccomando, seguite Glamissima perché così seguite anche me. Ciao!